questo succede quando c'è delle piantine che non so dove mettere le infilo dappertutto nel vaso dell'acero rosso che è un vaso molto grande ci ha infilato delle piantine di cicoria guardate che spettacolo questo per quelli che mi chiedono ma si può fare l'orto nel vaso si può fare l'orto nel vaso infatti a due passi l'orto nel vaso c'ho due piante che hanno già un anno e mezzo due sia di bietola rossa che è stupenda come la mette in terra perché ormai è diventata enorme hanno un corpo gigantesco sia al cavolo nero che non lo amiamo in famiglia quindi non l'ho riseminato però una pianta è rimasta fuori eccola qua questo vi fa capire che in vaso se c'è il vaso grande può fare qualsiasi cosa come puoi fare le melanzane ecco qua un vaso gigantesco con le melanzane che sono il fiore di maturazione di vari tipi grandi come in vaso puoi fare le fragole certo le mie sono un po da diradare e guarda che roba non le diraderemo se sono in base tutti hanno preso tutti i vasi della zona sono propagate nelle cipolle dappertutto